Noi invitiamo a prendere il pettacolo. Io ho un due e mezzo da vicino, tu un trentadue. Ma che spettacolo è? E che cosa ha ricevuto? E' un cibo. Tutti insieme? Sì. Ma che meraviglia. Noi ragazzi, a lungo parte. E non mi devo dire chi va che è qui a te. Una sorpresa. Lei o Giulia? Del sopo? Andiamo a mangiare la pietà qui, la pietà. Ah beh, quello è interessante. Ancora più del teatro che dà, eh. Va bene, va bene. Allora adesso io, se non potessi venire in persona, magari mi posso pagare. E poi mi devo trovare volentieri. Facciamo. Una giornata rurabila. E voi venite a trovare al ministero. Andiamo sul tetto a prendere il capone. Bellissimo. Va bene, mi viene a trovare al ministero. Così trovate questo in ufficio, che lo mettono dentro la vicina. Se andiamo alla pietà. Va bene. Grazie, buon lavoro. Grazie. Grazie.